Buongiorno a tutti, sono Rino Polloni da Desenzano del Garda, siamo nella frazione di San Martino della Battaglia, come potete naturalmente notare dalla torre di San Martino. In questa zona di particolare pregio turistico, storico, ma anche ambientale, ci hanno chiamato, ci hanno segnalato che c'è qualcosa che non va. L'amministrazione comunale è latitante sotto il punto di vista ambientale e perciò siamo venuti a documentare cosa succede in queste zone frequentate da turisti che vengono da tutto il mondo perché come sapete qui è nata la Croce Rossa e perciò andremo a vedere lungo la strada che costeggia la torre di San Martino cosa succede. Ecco, qua siamo proprio nella zona attaccata alla torre. Sulla strada che costeggia la torre, nella cascina di pregio, nella zona del Lugana, potete vedere in che condizioni sono lasciate queste zone che tutti possono vedere perché sono attaccate alla strada. Guardate, sacchetti abbandonati ovunque, sporcizia ovunque. e potete vedere anche dall'altra zona la maleducazione della gente che abbandona questi rifiuti ma anche l'incuranza e la maleducazione di un'amministrazione che trascura queste zone di pregio ambientale e storico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.